Omero non ci dice la storia in sé per sé con i fatti inteso come slegati dall'ambito mitologico, ci fa e ci imprime dentro l'ambito appunto mitico, quindi gli dèi che partecipano alla guerra di Troia, che parteggiano alla guerra di Troia. Da questo punto di vista è possibile appunto che lo stesso Erodoto, è probabile questo, fosse abbastanza critico nei confronti dei poemi omerici, almeno da un punto di vista della mitologia, perché, attenzione, se Erodoto da un punto di vista storico si basò cercando appunto la ricerca su in realtà una storia reale slegata dal senso mitico, anche se ci fa rientrare comunque la divinità, ma non già come divinità che determina, ma come divinità che al massimo dà consiglio. Si veda anche il rapporto che Erodoto sviluppa tra il re persiano, il grande re, e la divinità stessa, e anche i sogni che questo gran re ha prima appunto di sviluppare questa spedizione. Un passo interessantissimo è quando Erodoto parla di Cerse e all'inizio della sua incertezza se appunto fare o meno come aveva fatto Dario nell'attaccare di Grecia oppure no. E c'è tutto questo sviluppo del sogno tale per cui all'inizio Cerse sembrava non essere così convinto, poi alla fine decide appunto di attuare questa spedizione. Quindi non è che lo stampo mitologico in appunto Erodoto venga del tutto meno, però è declinato da un punto di vista storico. Cioè se Omero declina la storia ma il rapporto alla mitologia come mitologia impattante, quindi diciamo creando un senso anche epico rispetto agli eventi, Erodoto è più diciamo realista perché dà una concretezza maggiore al rapporto che esisteva in fin dei conti tra il rapporto specificatamente l'uomo greco e la divinità, ma anche l'uomo barbaro e la divinità e appunto anche il rapporto potenziale tra ciò che poteva essere una divinità intesa anche nel rapporto in potenza tra le due diverse culture. E infatti le storie di Erodoto alla fine raccontano la storia persiana, raccontano la storia persiana e anche l'imposizione dell'impero persiano sul regno di Lidia e poi anche sull'Egitto e poi l'incontro con i greci. Quindi attenzione, se Omero parte dal presupposto che appunto la guerra di Troia nasce perché Menelao vede Paride che gli rapisce Elena, e da lì dunque i greci vanno in Asia minore e dunque attaccano Troia, città in Asia minore, la situazione di Erodoto è descritta diversamente, slegata dal mito tale per cui in realtà sono i persiani, sulla base anche di quello che Erodoto dice da questo punto di vista che in realtà sulla base delle storie Erodoto dice non è che i persiani furono i primi ad attaccare appunto le città di Asia minore, già i greci in forma arcaica, già a partire appunto dall'età arcaica molto prima del VI secolo e poi V secolo a.C. attaccarono prima il regno di Lidia nel VI e poi nel V, i greci prima ancora arrivarono in Asia minore. Questo è interessantissimo perché ci fa rilevare un presupposto, il presupposto cardine che entrambi partono dallo stesso presupposto, cioè l'invasione, cioè il tentativo di invadere qualcuno. Omero lo svilupperà da un punto di vista mitico e come dirà anche Gian Battista Vico questo mito avrà una storia tutta interessante da scrutare. Perché? Perché appunto da quello che ci dice Omero possiamo capire alcuni presupposti storici, possiamo appunto capire che molto probabilmente erano gli aristocratici a partecipare alla defesa del territorio, in fin dei conti Omero ce lo dice quando sono coloro che appartengono al ceto degli aristocratici che vanno a combattere e sono i comandati della spedizione Achille, Ulisse, Menelao, Agamennone e gli stessi troiani, Paride, Ettore, eccetera. D'altro lato c'è probabilmente anche il tema appunto del duello, cioè le battaglie come vengono decise. Appunto il duello è esaltante e spettacolare quello tra Ettore e Achille specifica che molto probabilmente in quel periodo storico le guerre erano soprattutto decise molto probabilmente da duelli tra aristocratici più che da battaglie campali. Questo è un altro presupposto. Quello che fa invece in questo senso partendo dal presupposto dell'invasione da un lato e in realtà poi dall'interpretazione dall'altro, se Omero fa un lavoro più che altro di racconto che e poi deve essere anche interpretato come direbbe Vico da un punto di vista storico e attenzione i poemi omerici nascono per essere espressi in forma orale, certo sono scritti ma nascono per essere espressi in forma orale, le storie di Rodoto partono a presupposto diverso, sono in realtà un'analisi che Rodoto sviluppa e fa durante i suoi viaggi, in realtà anche ammirando ciò che vede nei suoi viaggi, in realtà anche successive alle riflessioni che fa ai suoi viaggi. Quindi la cosa interessante da considerare rispetto a Rodoto è che Rodoto molto probabilmente, anzi sicuramente, non aveva alcuna intenzione di scrivere queste storie prima dei suoi viaggi. Cioè lui comincia a scriverle mentre è, mentre fa questi viaggi, cioè nel momento in cui la curiosità lo spinge, gli viene in testa di scrivere le storie. Ecco perché è interessantissimo, se voi prendete le storie della Rodoto notare, come lui abbia un atteggiamento estremamente descrittivo. Ora, uno potrebbe chiedersi, ma com'è che faceva a descrivere? Chiaramente da un lato lui utilizzava i dati di fatto, cioè quello che vedeva, quello che sentiva, quello che udiva. E da questo punto di vista, tra l'altro, rispetto a questo, le diverse fonti tendono anche a essere corroborate. Poi sui dati di fatto sembra che Rodoto abbia detto le cose che davvero vedeva e sentiva. D'altro lato si basava anche sulle forme di stampo orale e qui è meno certo anche quello che riporta. Infatti da questo punto di vista non è che Rodoto potesse esprimere del tutto per parlare di tutte le culture, non è che potesse vedere tutto ciò, non è che ha espresso tutto ciò che ha visto. Quindi da un lato, naturalmente, alcune cose che ha espresso le ha viste, altre cose invece le ha espresse per sentito dire. E quindi perché appunto sulla base di ciò che gli serviva è andato a chiedere in forma orale a delle persone, per esempio sacerdoti, per esempio persone vicine anche a generali, in generale comunque sia persone che erano legate a quella cultura che lui gli interessava, per avere appunto le dinamiche generali o comunque sia anche un livello culturale comprensibile da un lato per scriverlo e da un lato appunto per conoscere. Ovviamente quindi tutto ciò riguarda singoli poi individui in cui lui si è imbattuto molto probabilmente che gli hanno dettato delle cose e lui poi ha fatto un lavoro anche di riflessione e ha scritto, ha riportato. Ovviamente quindi questo lavoro resta un lavoro anche parziale se vogliamo e da questo punto di vista si nota anche l'impronta storica. Ovviamente alcune critiche che si potrebbero dire un po' effettivamente sbagliate a mio parere sono quelle che Erodoto dica delle cose che sa che non sono del tutto vere. E' ovvio che in realtà per l'epoca in cui Erodoto vive, ma in fin dei conti anche per il particolarismo che Erodoto si trova a dover avere di fronte, non è che tutto quello che scrive sa anche lui perfettamente che è certo, però lo riporta. Questo è importante, cioè quello che per primo fa Erodoto è un lavoro di riporto inevitabile. Infatti Erodoto non aveva intenzione di escludere ciò che per lui non era certo. Lui aveva intenzione di portare all'interno delle storie anche ciò che per lui o per i dati di fatto non era certo. Perché? Perché era meglio salvare anche le cose poco certe piuttosto che buttarle via. Soprattutto anche per coloro che avrebbero letto queste storie in futuro. E infatti questo lavoro poi è servito da un punto di vista storico, cioè gli storici ancora oggi leggono quelle storie che cercano di capire se quei dati che Erodoto esprime, quelle modalità di vita che Erodoto esprime, quegli atteggiamenti delle diverse culture, greci, persiani, egiziani, eccetera, ritornano. Quindi quelle storie sulla base, in fin dei conti, delle riscoperte anche appunto di stampo artistico, di stampo religioso, in generale di stampo culturale che vengono fatte, sono sempre un bacino di riflessione per capire quanto in primo luogo Erodoto abbia capito di quelle culture. Ma soprattutto se quello che Erodoto ha scritto è in fin dei conti supportabile e funziona. E quindi in questo senso Erodoto in tal senso ha proprio fatto un primo lavoro da storico, non già per declinare o darci informazioni sbagliate, ma per salvare il salvabile sulla base del fatto che queste informazioni andavano comunque appunto espresse. Sulla base del fatto che ovviamente non poteva chiedere a tutti coloro che erano esperti di quella cultura, non poteva poi sempre sapere dove chiedere e non poteva poi nemmeno, in fin dei conti, spaziare più di tanto. Consideriamo appunto i grandi viaggi che ha fatto e anche l'estensione dei luoghi in cui andava, ma poi in fin dei conti anche il fatto che non poteva sempre accedere a diversi spazi. Quindi in questo senso il lavoro di Erodoto di cercare di collegare ciò che poteva collegare e in fin dei conti cercare di collegare ciò che più poteva collegare con ciò che meno poteva collegare ha prodotto un lavoro comunque sia, se vogliamo tra virgolette, sistematico di prima opera storica, che sono poi le storie che vanno appunto dall'epoca precedente alla conquista del regno di Lidia da parte dei persiani in fin dei conti, quindi al primo tentativo allo struttura dell'impero persiano, fino poi appunto a raccontare anche le guerre greco-persiane. E quindi anche in questo senso racconterà la presa dell'Egitto da parte dei persiani, poi racconterà le guerre greco-persiane, quella appunto la battaglia di Maratona vinta dagli attinesi, la battaglia di Salamina vinta appunto dai greci contro Cerse, contro i persiani, appunto a largo delle coste di Salamina nel 480 avanti Cristo. E attenzione, non è che si limiterà a raccontare le faccende di guerra, cioè l'Erodoto esemplifica, dà una descrizione dei fatti e non racconta tanto ciò che lui pensava rispetto a questi fatti, ma come questi fatti sono avvenuti, al di là poi se queste cose sono davvero avvenute così come le descrive oppure no, ma il senso descrittivo è molto utile perché a distanza di Omero e contrariamente ad Omero, che utilizza un linguaggio totalmente epico, se vogliamo totalmente partecipativo, anche con il lettore che in realtà sembra e tende a sentirsi protagonista dell'Iliade e dell'Odissea e Omero tende in realtà a mantenere una riflessione descrittiva degli avvenimenti. Quindi il lettore magari all'inizio non si sentirà pienamente protagonista perché in realtà non è così partecipativo, Omero da un punto di vista, se vogliamo, del pathos degli eventi, ma come descrizione cerca di far inserire il lettore all'interno dei dati che lui poteva avere o in potenza lui pensava di avere sapendo della sua incertezza. E quindi, attenzione, qui nasce anche il primo tipo di storia e di storiografia intesa come c'è sempre un lavoro da un lato di stampo parziale, cioè non è che io posso sapere tutto da storico e anche se appunto so di sbagliarmi lo metto per sicurezza. E dall'altro appunto anche un lavoro poi di stampo descrittivo, esemplificativo, dove io ho bisogno di far capire appunto a chi mi segue il rito, il rituale, il processo, lo sviluppo e al limite del possibile cercare di intelaiare questi eventi per dare una descrizione storica concreta. Saranno poi i storici del futuro a verificarlo. E questo è ciò che accade. Quindi la grande differenza è che le storie di Rodoto non sono tanto un qualcosa, in fin dei conti, da cantare. Sono un qualcosa su cui più che altro tendere a riflettere da un punto di vista della descrizione che Rodoto fa. E Rodoto tende a descrivere il senso della cultura, i paesaggi, il modo di agire, il modo di intendere le cose. Omero tenderà invece a rendere partecipi le divinità, a rendere partecipi gli eroi, a mostrare la faccia della medaglia di stampo eroico e se vogliamo anche ideologica del greco. Un'ideologia che poi si dovrà misurare anche sui dati di fatto, non è un caso appunto che l'ideologia del greco, inteso anche come anima omerica che va nell'Ade e lì appunto svilupperà un periodo di disagio e infelicità totale, produrrà quell'ideologia della guerra tale per cui io devo fare qualcosa per la vita perché sennò quando morirò, in fin dei conti, non avrò più in realtà nulla. E questo, in questo senso, è un po' anche, se vogliamo, da questo punto di vista, l'ideale greco della grazia, cioè nel senso, nel momento in cui io ho valore, io raggiungo un valore e raggiungo questo valore nel fatto che ho fatto qualcosa per la comunità, anche nella guerra, e sono riuscito, ideologicamente parlando, a rispecchiare questo valore. Io, in fin dei conti, ho maturato la mia possibilità e l'ho compiuta in vita. Quindi, anche se morirò infelice, nel senso che la mia vita nell'Ade sarà infelice, la vita resterà in questo senso come un qualcosa che avrò vissuto, avrò compiuto. Achille e Ettore sono l'esaltazione di questa ideologia. E quindi, poi, a un certo punto, da qui, e anche da Omero, capiamo l'idea storica che sta dietro al rapporto tra fatti e ideologia. Capiamo che, prima di andare in guerra, i greci avevano una certa ideologia, avevano un modo di intendere la guerra, e poi anche un modo di procedere il rapporto alle divinità. E per questo, il radotto ci parla anche del tema della divinità in diso come rituali, che valgono anche per i barbari, ovviamente, in modo diverso, perché avevano una struttura anche di stampo economico-pratico diversa, avevano un gran re. I greci, invece, erano divisi, come ben esemplifica lo storico greco, e ebbero anche difficoltà a trovare compromessi per poi allearsi contro, soprattutto nella seconda guerra greco-persiana, contro i persiani. Però tutto sta ad indicare, appunto, tra loro le differenze, ma anche le similitudini tra, appunto, i due, io definirei storici greci antichi da un lato, Omero, e dall'altro lato. Perché alla fine sono storici. Certo, uno potrebbe dire, ma Omero non è così uno storico. Ma Vico ce lo dice, Vico, Gian Battista Vico ci dice, però queste informazioni ci sono, in modo diverso, ma ci sono. E quindi io credo che, almeno nel mio presupposto, sia davvero interessante unirli e cercare di dare un'esemplificazione che resta diversa, ma comunque che è collegabile e dà una linea netta di esemplificazione a un primo tipo di storia che dall'altro è epica, mitologica, ma che dà un senso e dall'altro invece è descrittiva, esemplifica. Ciao.